Dal 2007 la popolazione urbana ha globalmente superato quella rurale. Le città nel mondo sono sempre più grandi e l'uso indiscriminato di terreni e culture rende critico il crescente fabbisogno di alimenti freschi. Lo sviluppo di sistemi di agricoltura urbana è una possibile soluzione. Con l'Università di Bologna ho contribuito a far crescere numerosi progetti di agricoltura urbana nel nostro paese, ma anche all'estero. Esperienze che fanno bene all'ambiente e rivitalizzano le comunità garantendo un maggior accesso al cibo e lo sviluppo di relazioni sociali di prossimità. Grazie a tutti!